Ehi, ti presento Matteo, Matteo, che sei che è Peppe Channel? Perché non vai a prendere la macchina? Ti aggiungo 30 secondi Io ho provato a chiamarti Sono una persona Ho visto, come stai? Bene, sto bene Sul serio? Ok, devo andare Aspetta, mi ha fatto piacere vederti Così mi uccidi Devo proprio andare adesso